Avevamo l'ok di un tifoso della Virtus ma ci siamo fermati perché ha ripreso il gioco e facciamo vedere solo il fuori, il campo è lontano da un quadratore, la bellissima struttura, Tempori per esaltare le strategie di marketing, Luca Baraldi, sempre all'avanguardia in qualsiasi contesto, in qualsiasi tempo, una delle coordinatrici di Viva T Viva Ivan Lascio, lo risaliamo Lascio, lo risaliamo